In vista del clou dell'estate, il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha potenziato la dotazione di personale in particolare sulle località costiere. Dunque controlli e vigilanza rafforzati per rispondere al maggior numero di presenze a cominciare da quelle turistiche. Le unità di rinforzo per ciascuna componente si sono aggiunte al personale già in servizio. Per la security abbiamo rinforzato notevolmente la presenza delle forze dell'ordine sulla costa. Sono arrivati dei rinforzi ulteriori da Roma e stiamo cercando di presidiare il territorio quanto più possibile, anche con la collaborazione dei corpi di polizia municipale. Vedo che i risultati sono molto buoni per dare questa percezione di sicurezza alla cittadinanza e per intervenire purtroppo quando è necessario. Anche in questo caso a fine estate faremo un bilancio per vedere come si può migliorare, cosa si può aumentare per l'anno prossimo per una sempre maggiore sicurezza della costa e della provincia in genere. Fino al 28 agosto la Polizia di Stato assicurerà un servizio di controllo rinforzato H24 prioritariamente sul territorio di Martinsicuro e Albadriatica, aggiungendo alle 5 unità di rinforzo ulteriori 7 unità già in servizio nella questura di Teramo. Fino al 13 agosto il Comando Provinciale dei Carabinieri impiegherà 5 unità di rinforzo nella compagnia di Giulianova e nella compagnia di Albadriatica per i controlli su tutta la costa, nonché altre due unità già in servizio nelle stazioni dell'entroterra, impegnandosi ad assicurare comunque dopo tale data un'intensificazione dei controlli tramite il personale in forza nelle stazioni con competenza sulla fascia costiera. Le 6 unità aggiuntive della Guardia di Finanza invece sono state suddivise tra le diverse compagnie, 4 unità Giulianova, 1 unità Nereto e 1 unità Teramo fino al 16 agosto. L'obiettivo è quello di far sentire al sicuro i turisti e i tanti residenti? Assolutamente sì, prevenzione quindi massima presenza di uniformi di qualunque colore siano sul territorio in modo da prevenire qualunque tipo di illegalità, di reati, di turbativa dell'ordine della sicurezza pubblica e se del caso appunto purtroppo quando ci vuole intervenire, ma con una presenza anche quantitativa maggiore puoi ovviamente fare molti più servizi sia di prevenzione sia a volte di repressione, ma l'obiettivo è assolutamente quello, una vacanza sicura, una vacanza tranquilla.